Nelle prossime ore si conoscerà il numero progressivo assegnato sulla scheda elettorale, ma una cosa è certa. Luigi Petrone, candidato del centro-sinistra, e Dario De Luca, del centro-destra, andranno avanti con le stesse pattuglie per conquistare la guida del Comune di Potenza al ballottaggio in programma domenica prossima. I due si confronteranno senza aiuti o alleanze ufficiali da parte degli altri candidati. Roberto Falotico, per Potenza Condivisa, Michele Cannizzaro, per il centro-destra, Giuseppe Di Bello, per Liberiamo la Basilicata, e Savino Gennizzari, per il Movimento 5 Stelle. Proprio il candidato Grillino ha già fatto sapere che il movimento al ballottaggio non si schiererà con nessuno, poiché ritiene che i due candidati sindaci siano espressioni delle stesse matrici politiche, culturali e partitocratiche. D'altra parte, che entrambe le coalizioni la strada fosse questa lo si era capito subito, anche perché una suddivisione dei seggi rischierebbe di stravolgere la geografia, pressoché definita del prossimo Consiglio Comunale.